Gabriele Paolini, personaggio televisivo conosciuto per l'appunto del mondo della TV e famoso per via della sua presenza in molti telegiornali, in veste di tra virgolette disturbatore televisivo, avrebbe tenuto questa sera di oggi, primo gennaio 2016, una sorta di comissia udile all'aperto, il corso del quale si sarebbe spogliato fino a restare in boxer, dopo qualche minuto però si sarebbe sentito male per il freddo e sarebbe stato portato in ospedale, successivamente sarebbe stata identificata la polizia, Paolini era arrivato dalla roggia del Gionello in centro e avrebbe cominciato a parlare al microfono mentre si spogliava, la esibizione è tutto singolare però sarebbe stata notata da alcune persone che avrebbero poi allertato la polizia, quando sarebbero giunti gli agenti, Paolini si sarebbe sentito male per colpa delle temperature piuttosto basse, piuttosto liquide e sarebbe prestato soccorso da un'ambulanza che poi sarebbe arrivata in loco, poi sarebbe stato portato in ospedale, sarebbe stato dimesso poco dopo e poi ripeto nuovamente identificato da parte della polizia che ovviamente ha preso le sue generalità, quindi italiana e gattici e non solo. Questo è quanto, questo sarebbe quanto, se in tali video non sono presenti delle inizialtesse e me ne escludo, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto è escluso di me eventuali responsabilità di qualsiasi voglia natura. Grazie e un saluto.